benvenuti ad una nuova puntata di in cucina con oggi ci troviamo all'uso maro venite con me e andiamo a conoscere la storia di questo ristorante eccoci qua ciao ester ciao benvenuto alla francesca annamaria voi siete l'anima e il cuore di questo ristorante ma volete raccontarvi qual è la storia dell'uso maro certo il ristorante l'uso maro nasce nel 1949 e quest'anno compie 75 anni ha sempre avuto una gestione familiare noi siamo la terza famiglia che ha l'onore di gestire questa attività e l'abbiamo sempre cercato di mantenere in un ambiente familiare caldo e accogliente ma perché si chiama l'uso maro si chiama l'uso maro perché in antichità questa era la stalla dei su mari a cimicchia infatti allora devo dire che si vede moltissimo un tratto diciamo molto importante che si nota già entrando dell'arredamento ma anche proprio della struttura e il fatto che sia molto in legno se avete comunque mantenuto negli anni questa scuola stile di questi ristoranti a volte c'è stato più legno poi abbiamo tolto più legno però è stato sempre modernizzato di anno in anno sempre qualcosina abbiamo ritoccato voi avete preso questa attività quattro anni fa giusto si è in pieno cove è stato dura all'inizio perché abbiamo dovuto faticarci il doppio certo però piano piano ce l'abbiamo fatta e adesso ci stiamo prefissando dei nuovi obiettivi nuovi obiettivi nuovi traguardi quali sono più più apertura a pranzo stare aperti anche a pranzo abbiamo iniziato già adesso ogni fine settimana da molto tempo a stare aperti a pranzo e puntare molto sulla banchettistica su tutte le cerimonie dalla classica comunione cresima battesimi anniversari di marimonio ci puntiamo molto a fare questo tipo di lavoro sentire ma una curiosità quali sono le vostre cavalli di battaglia o quali sono i preferiti che viene a mangiare qui abbiamo una vasta gamma di antipasti primi e secondi alla griglia e in padella ma e soprattutto anche la pizza abbiamo i più più preferivi sono la pasta fatta in casa da me e molti secondi cucinari a lungo con calma io prima ho sbirciato la carta dei dolci ho visto che avete tantissimi dolci quanti sono sono circa 18 dolci meno di cui 16 fatti tutti da noi e la particolarità è che siamo anche il ristorante dell'associazione haic senza glutine quindi tutti i nostri piatti sono tutti senza glutine alla francesco abbiamo detto che la pasta è fatta in casa soprattutto la pasta è fatta in casa da te quindi la gestione della cucina è tutta tua sì sono 21 anni che sto in questa cucina prima lo facevi da chef e se lo fai da titolare e chef quindi anamaria tu controlli invece servizio ti occupi quindi della sala si delle prontazioni della messa in place della scelta dei vini quindi sei tu che scegli le cantine si abbiamo un'ampia selezione di vini nazionali e umbri quali vini vanno per la maggiore umbri o nazionale facciamo una cosa a me abbiamo già l'acquolina in bocca andiamo in cucina certo a scoprire e a conoscere questi piatti come no volentieri andiamo bene via ciao 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 eccoci qua francesco siamo nel tuo regno allora adesso iniziamo con un antipasto faremo la coratella la nostra coratella tipica un piatto ultracentenario quindi lo propongo sempre iniziamo con olio d'oliva in padella abbondante abbondante cipolla e poi le nostre erbette aromatiche le nostre rosmarino salvia un po di mentuccia e la coratella facciamo soffriggere un po la nostra cipolla aggiungiamo un po di rosmarino salvia e la mentuccia e poi mettiamo la nostra coratella precedentemente tagliata la coratella è un piatto tipico sempre molto apprezzato direi sì sì in questo periodo pre pasquale e soprattutto che è stagionale è molto buona con i carciofi fatta in bianco con i carciofi questa adesso la facciamo rosolare bene rosolare bene e poi la sfumiamo con un ottimo bianco e la faremo cuocere per due ore con aggiunta di un po di brodo vegetale e la coratella è pronta sale pepe peperoncino e sarà fatta è pronta da mettere in tavola senti viene accompagnata con qualcosa di particolare o viene servita così? servita così su una ciotolina e in questo momento la inizieremo a servire anche con i carciofi con i carciofi fritti croccanti sopra quindi come guarnizione come guarnizione ma anche l'accompagnamento perché i carciofi sono buonissimi in tutte le versioni non vedo l'ora di assaggiare il tutto allora sta rosolando è il momento di aggiungere il vino ecco qua facciamo evaporare il vino e poi mentre lasciamo finire di cuocere la cordella che come hai detto no? verrà aggiunto il brodo e finita di cuocere a lungo hai preparato anche un altro antipasto? si abbiamo una mozzarella in carrozza che è un piatto che è gettonatissimo è molto richiesto dai tempi dell'apertura e lo facciamo quotidianamente tantissime 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 e ti farò vedere come si fa allora Esther per la mozzarella in carrozza serve uovo ottimo fior di latte pane e farina sbattiamo l'uovo vedete è pronto e ci immergiamo il pane poi tagliamo la nostra mozzarella a fette di circa un centimetro le passiamo prima nella farina facciamo aderire bene poi nell'uovo e poi la appoggiamo sopra il pane ecco qua e adesso friggiamo aspettiamo che l'olio arrivi a temperatura a fare la prova col dito no? con lo stecchino questo è il livello pro la prova del dito e non dello stecchino e adesso friggiamo la nostra mozzarella in carrozza quella mozzarella sembra rivolta verso il basso rimane quindi aderente? si aspettiamo qualche secondo che aderisca poi la giriamo il piattino per asciugarla appena è pronta ed è pronta ed è pronta e la mozzarella in carrozza è pronta gli serviamo semplice e gustosa semplice e gustosa non leggera ma buona non leggera ma i nostri antipasti più gettonati la coratella e un assaggio di mozzarella in carrozza se solo si potesse sentire il profumo anche dallo schermo ora non potete capire che profumo che sale da queste ritanze qui è profumavissimo cosa ci prepari invece come frigo? adesso facciamo due primi piatti uno è il nostro storico il risotto dell'asina non è tipicamente ternanno ma è il risotto simbolo del ristorante e l'altro è una tagliatella carciofi guanciale croccante e scaglia di pecorino andiamo a vedere come si prepara andiamo allora francesco descrivi un po' questo risotto dell'asina subito subito allora il risotto dell'asina è un risotto che ha una ventina d'anni l'ho inventato vent'anni fa è un risotto non tipicamente umbro ma l'ho inventato vent'anni fa è un piatto ormai storico quindi non lo cambierò mai si inizia con casseruola burro cipolla facciamo fondere il burro rosolare un po' la cipolla ecco e a questo punto aggiungiamo il riso un ottimo carnaroli facciamo velocemente tostare il riso sfumiamo con un goccio di bianco appena ecco qua così quando è bollente appena evapora il vino aggiungiamo il brodo precedentemente aromatizzato allo zafferano che bel colore questo brodo e andiamo in cottura per 15-16 minuti facciamo cuocere a fuoco dolce a tre quarti di cottura aggiungeremo tutto il resto degli altri ingredienti che andremo a scoprire a breve si nel frattempo mantechiamo quindi il nome dell'asina in realtà è solo un nome ironico che fa riprendere il somaro fantascienza si si non c'è dentro non c'è dentro la carne di somaro allora siamo a tre quarti di cottura come vedi bolle 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 e aggiungiamo speck già tagliato a listarelle funghi finferli già precedentemente cotti in padella facciamo amalgamare tutti questi ingredienti e appena il riso è cotto lo spegniamo lo lasciamo riposare due minuti e lo mantechiamo con il formaggio dobbiaco che proprio lo prendiamo dal paesino su un trentino dobbiaco e farà una crema bella saporita e gustosa ecco qua il riso è pronto lo spegniamo lo togliamo dal fuoco e aggiungiamo il dobbiaco e lo facciamo mantecare con questo e adesso facciamo sciogliere il dobbiaco che farà la nostra cremina e il riso è pronto aggiungiamo il sale e il peve e questa eccola è l'onda il riso quando è pronto deve fare l'onda c'è questa cremina che volendo uno potrebbe fare anche la scarpetta certo è obbligatorio il riso è pronto e lo impiattiamo adesso invece prepareremo le tagliatelle fatte da me con guangiale croccante, carciofi e scaglie di pecorino partiamo con una becca d'aglio in padella carciofi carciofi tagliati finemente ecco qua poi aggiungiamo con i carciofi ci sta benissimo un po' di menduccia sale e pepe e facciamo cuocere nel frattempo caliamo le tagliatelle le mie tagliatelle eccole acqua salata giù aspettiamo che cuociono poi guangiale croccante precedentemente aggiungiamo le tagliatelle cotte quindi guangiale croccante precedentemente tostato sì le nostre tagliatelle poi aggiungiamo un goccino d'acqua di cottura un filo d'olio facciamo ancora tirare un po' la salsina e siamo pronti e siamo pronti per impiattare e impiattiamo ecco qua il nostro risotto dell'asina come vedi il formaggio dobiaco si è sciolto e ha fatto la sua cremina saporita e andiamo a impiattare questo riso con lo zafferano lo speck i finferli e il dobiaco ecco qua e questo è il nostro riso l'aspetto e il profumo senza aggiungerci nient'altro perché è già bello così giallo e vario pinto dai suoi ingredienti poi impiatteremo le nostre tagliatelle facciamo un bel nido e aggiungiamo sopra tutto il condimento che abbiamo fatto e lo spolverizziamo con il nostro pecorino romano a scaglie e voilà allora francesco vedo che hai già sistemato un paio di patelle quindi immagino andrei a preparare un secondo o uno? due secondi due secondi faremo uno spezzatino di manzo con tartufo estivo e un petto di faraona più particolare più colorato che adesso vi farò vedere andiamo ottima carne di manzo facciamo dei cubetti e poi li mettiamo in padella con olio aglio e rosmarino ecco qua pronti olio bello caldo rosmarino una becca d'aglio facciamo profumare bene l'olio con quest'aglio aggiungiamo la carne sfumiamo col vino aggiustiamo di sale e pepe e facciamo cuocere per circa un'ora e mezza ecco qua carne che sfricola sulla padella sale e pepe facciamo insaporire un po' su questo piatto ci andrà il tartufo ma quello lo aggiungeremo solo alla fine a fine cottura quando il piatto sarà pronto perché il tartufo va pochissimo cotto deve solo sentire il calore della carne basta quindi a fine cottura aggiungeremo abbondante tartufo la carne ha rosolato sfumiamo con un goccio di vino facciamo vaporare e lasciamo cuocere per un'ora e mezza ecco qua ciao a nanna ci vediamo dopo ci vediamo dopo per mettere il tartufo sì allora adesso stiamo cuocendo il petto di faraona già disossato ecco caramelliamo bene la pelle poi facciamo cuocere sotto un pizzico di sale e pepe con questo petto di faraona poi lo scalopperemo lo taglieremo a fettine sottili e lo guarneremo con altri ingredienti che ti farò vedere ho già visto che stavi preparando qualcosina ma una sfumata leggerissima di vino bianco per fare un po' di frambe ecco qua questo non è da ripetere a casa comunque perché non potremmo e siamo pronti spegniamo facciamo riposare due minuti e impiattiamo ok il petto di faraona lo scaloppiamo così facciamo tutte fettine sottili lasciandoci la pelle ecco qua che è la parte più buona più gustosa la pelle è la parte più saporita direi sì e c'è chi non la mangia poi eh devo dire sì non davvero intenditori ecco qua appoggiamo tutto per benino qui ho visto che hai preparato degli ingredienti molto particolari sì questo piatto è come dicevo colorato bello innovativo valeriana dolce la valeriana è un è una verdura dolce gustosa più ci mettiamo l'aspro dei lamponi i ribs le more e i mirtilli in più lo serviamo con un ristretto di aceto balsamico questo è un piatto da leccarsi i baffi particolare ma gustosissimo eccoci qua il nostro spezzatino di manzo è pronto abbiamo aggiunto il tartufo a fine cottura fuori dal fuoco giusto che prendi una scaldata e adesso? lo impiattiamo con la sua salsetta ecco qua e adesso ancora più tartufo a crudo ci mettiamo che tipologia di tartufo stai aggiungendo? questo è scorzone estivo ecco qua prendiamo un altro il profumo è paradisiaco a crudo ha un colore pazzesco un filo d'olio e il piatto è pronto si sente proprio il profumo l'essenza del tartufo su questo piatto e voilà pronti allora qui prepariamo la nostra zuppa inglese pan di spagna un mix tra alchermons alchermens rum caffè lo andiamo a pezzare nel vasettino ecco qua bello bagnato la zuppa inglese deve essere bagnata poi aggiungiamo cioccolata crema al cioccolato eccola bella ricca di cioccolata un altro strato di pan di spagna ancora una bella bagnata di alchermens e voilà e crema pasticcera classica e la nostra zuppa inglese è pronta allora adesso la maria ci sta portando questi meravigliosi piatti che abbiamo appena terminato di mozzarella in carrozza e coratella una profumatissima coratella i nostri due primi piatti la tagliatella ai carciofi guanciale croccante con scaglie di pecorino il nostro risotto dell'asina con finferli, dobbiaco, zafferano e speck i meravigliosi piatti che abbiamo appena finito di preparare il nostro petto di faraona valeriana frutti di bosco e salsa all'aceto balsamico lo spezzatino di manzo al tartufo estivo allora si sente adesso in questo momento il profumo che prevale è quello del tartufo direi che è qualcosa di meraviglioso e per chiudere in bellezza i due dolci secondo me più belli del ristorante allora Francesco vogliamo anche parlare un attimino di quel meraviglioso dolce che vedo laggiù? si quello è una bavarese al pistacchio semplicissima e cioccolato bianco tutti i nostri antifasti primi, secondi e soprattutto dolci sono anche per tutte le persone che sono celiache perché facciamo tutti nel possibile tutti quanti senza glutine e questi sono i due dolci che sono più gettonati di tutti la zuppa inglese e la bavese al pistacchio hanno un aspetto meraviglioso, non vedo l'ora di assaggiarli grazie chiamiamo un piccolo aiutante però per assaggiarli certo, come no, si si, lo chiamo subito allora eccoci qua, facciamo la prova dell'assaggio ufficiale? dicci un po' com'è grazie papà questo è buono grazie grazie